Buongiorno, sono Claudi Mussa e vi do il benvenuto sul sito e sul canale YouTube dell'AMCS Software. Da questo canale potrete accedere a una serie di video guide e video tutorial dedicati ai prodotti software da noi realizzati. In particolare troverete molto materiale relativo al nostro prodotto ArcVision RP. ArcVision RP è un'applicazione nata e specifica per il computo dinamico tra i progetti realizzati con Autodesk Revit e il computo realizzato con Primus DH Software. Dal nostro sito potrete scaricare e provare gratuitamente il prodotto ArcVision RP e contattarci per qualsiasi informazione tecnica o commerciale. Conclusa questa breve presentazione non mi resta che augurarvi una buona visione di questi filmati. Vi ringrazio e vi saluto. A presto. Claudio Mussa